ciao a tutti buongiorno bentornati nel nostro corso di tinkercat oggi parleremo di interfaccia utente andiamo a vedere soprattutto la dashboard iniziale vi porto sul mio computer eccolo qui appaio anch'io questa è la dashboard o l'home di tinkercat una volta che siete entrati l'abbiamo già visto nella prima puntata ricordo semplicemente che questo tastino per tornare alla home da qualsiasi parte siate la parte della strisciata superiore l'abbiamo già analizzata mi interessa farvi vedere questo pannello a sinistra che è quello delle sezioni di tinkercat che sono progetti circuiti code block o lezioni lezioni sono quelle che potete fare all'interno del sistema di apprendimento di tinkercat come le tinkercat lesson plan qui occhio alla tradizione queste lezioni in realtà sono lezioni che seguite e invece questi due tasti le tue lezioni le lezioni in realtà sarebbero a tradurre come classi come in realtà se lo trovate nell'interfaccia inglese quindi classi infatti qua sopra sapevamo che gestiamo le classi create come docente e qui invece le classi a cui partecipiamo come studente possiamo farlo entrambi contemporaneamente quindi occhio a non sbagliare invece qui andiamo a vedere quelli che sono i progetti i progetti non sono altro che delle semplici cartelle per gestire meglio i numerosi file che alla fine vanno a crearsi create le vostre cartelle ad esempio ne ho qua due con questo tastino ingranaggio andate a spostarlo nel progetto che volete uno di due in questo caso o semplicemente anche selezionandone più di una e premendone sposta nel progetto non ci interessa in questo caso ci interessa invece andare a vedere quello che è il piano di lavoro il piano di lavoro si va creando un nuovo progetto ne creiamo uno e adesso siamo proprio nel sistema di progettazione 3d di tinkercad andiamo a vedere strisciata superiore c'è la solita e concina tinkercad ce n'è un'altra a fianco che ci dà la possibilità di avere un preview di quella che è la home page quindi di modificare altri progetti o di aprire altri senza tornare dietro qui c'è il nome sappiamo che questi software salvano automaticamente ogni modifica e che quindi nascono con nome proprio per fare questa operazione ma noi li mettiamo invece il nostro personalizzato oggetto 1 in questo caso qui sopra niente di importante c'è questa visualizzazione o altre due più ludiche quelle di minecraft o quelle che riguardano invece i mattoncini lego qui invece è importante perché potete invitare e condividere questo progetto con altre persone in questo caso create copiato in collegamento lo date un'altra persona che può venire contemporaneamente a lavorare all'interno dello stesso progetto magari se vi scambiate all'interno del team delle informazioni attraverso delle chat vocale di telegram o delle stanze di discord e diamo a vedere invece questa sezione questo pannello perché la strisciata sottostante sarà meglio analizzarla nel momento che avremo degli oggetti all'interno del piano di lavoro questo pannello dicevo parte come libreria di oggetti di base ci sono sia oggetti di base in questo caso sono dei solidi geometrici che testi numeri pezzi di personaggio mobili e cose più più complesse come generatore di forma cose già precote o anche i preferiti preferiti sono utili perché magari io invece di andare a cercare in mezzo a tantissimi oggetti uno lo metto lo clicco su questa iconcina forma di stella lo rendo preferito e poi vado a vedermi la cartella dei preferiti qui vicino link vedete che mi appare il mio cubetto di base a proposito di cubetto di base me lo tiro dentro e mi tiro dentro anche insieme un cilindro perché Tinkercad non permette di realizzare da zero forme di base ma solo di modificare forme già create come avete visto nel momento che io metto dentro delle forme nasce o meglio se appare una nuova finestra che è contestuale perché vedete se vado sul cubo invece diventa di forma diversa ma l'analizzeremo con tutta calma in video successivi quando parleremo proprio della modifica degli oggetti andiamo a vedere appunto quello che vi dicevo questa questa serie di pulsanti all'interno di quella strisciata faccio una selezione così avete visto come selezionano gli oggetti molto semplicemente mi appara la possibilità di cliccare su molti dei tasti presenti ad esempio il ctrl c che sarebbe il copia l'incolla premessa è molto utile che impariate alcune scorciatoie da tastiera perché è molto più veloce lavorare come con tutti i CAD attraverso alcune scorciatoie da tastiera sono molto poche in Tinkercad per farvele vedere accendo anche l'overlay del mio mouse della mia tastiera così vedete cosa clicco questo è dopo il copia abbiamo un duplica che è un po' diverso vedremo in cosa l'elimina e quello che è l'annulla l'ultima operazione ora ripristina la ripete in questo caso qua abbiamo un'attiva disattiva notifica faccio un saltino velocemente vedere cosa sono le note perché sono un oggetto che è stato creato da poco in Tinkercad permette di segnare alcune note su un lavoro in cui si lavora a più umane o con lo studente eccolo qua potete anche ridurla questa iconcina qua ma potrebbero essere sono tante fastidiose per cui esiste un pulsante proprio per eliminare la visualizzazione nascondere o meno queste note per cancellarla basta cliccarci sopra in questo caso lo cancello anche lì con la vicina adesso è spenta perché serve appunto per visualizzare perché potrebbe essere utile cancellare o meglio nascondere uno o più oggetti perché sono troppi all'interno del piano di lavoro danno fastidio al momento che vogliamo ripristinarli basta ricliccarci sopra andiamo però al tasto più importante tinker cat form oggetti complessi unendo pezzi o solidi semplici e come si fa con il tasto raggruppa contro g nel momento poi che l'avete raggruppato potete tornare i solidi iniziali anche col tasto vicino che è il contro mescola g ma che è il separa gli altri due sono più per l'allineamento e per la posizionamento degli oggetti sono rispettivamente la linea e lo specchia dopodiché abbiamo gestione di file quindi possiamo importare file esterni sia 3d che 2d i primi due sono 3d lsvg 2d la stessa cosa quindi esportarla abbiamo 3 per stampa 3d quindi tridimensionali 2 per e 1 per 2d e poi inviare a o a librerie esterne o inviare il solido ad altri programmi come fusion per fare alcune finiture prima di stamparlo questi sono un po i tasti principali dei pannelli adesso andiamo a focalizzarci sul piano di lavoro il piano di lavoro che è formato come avete visto da un foglio quadrettato azzurro e un di carta millimetrata quanti millimetri è un 20 centimetri per 20 centimetri quindi 200 per 200 millimetri si possono cambiare le dimensioni cliccando su mod griglia potete cambiarlo quello che volete cambiare anche l'unità di misura un pollice o mattoni state usando la progettazione lego e o se no utilizzare anche una base che quella di una di queste stampanti 3d che esistono in commercio in questo caso ci va benissimo il 20 per 20 centimetri andiamo a vedere un'altra caratteristica sempre della griglia del piano di lavoro se muovo un oggetto vedete che si muove sempre di un millimetro alla volta sia se lo muovo sia se utilizzo le frecce per muoverlo posso cambiare questo tipo di step cioè qual è lo spostamento minimo di un oggetto cambiando la griglia di snap e mettendo ad esempio 0.25 se lo muovo adesso come vedete la griglia l'oggetto si sposta di un quarto di millimetro di solito un millimetro sufficiente ma a volte capita di aver bisogno di più precisione andiamo a vedere invece come muovere la visualizzazione del piano di lavoro e per fare questo andiamo in alto e c'è il classico cubetto autodesk presente in moltissimi software di questa factory e basta muoverlo si muove il cubetto si muove il piano di lavoro tra l'altro è anche possibile che si creano dei casini intanto e tornare alla vista iniziale proprio con il primo testino che qui quindi avete capito l'utilizzo quel tasto home si torna esattamente alla vista iniziale il cubetto è comodo perché posso andare in vista selezionando semplicemente il nome della vista come dall'alto o con le frecce andare in quello di fronte di quello quello a destra al fianco e quindi è possibile avere velocemente delle viste interessanti o cliccando sugli spigoli a vista 45 gradi anche 45 gradi messe in queste condizioni salterei poi direttamente a vedere alcuni zoom questo ad esempio il secondo tasto è un'adatta vista alle forme selezionate cosa vuol dire che è dinamico se io seleziono due solidi ci clicco sopra o come avete visto c'è anche il tasto f e mi fa uno zoom che inquadri perfettamente le due forme se invece inquadro solo una delle due e lo rifaccio vedete che cambia lo zoom è uno zoom che cambia a seconda delle cose che abbiamo selezionato ed è molto utile quando abbiamo una moltitudine di oggetti poi qua sotto due tasti che si spiegano da sé questi sono tasti di zoom posso fare un più o meno quindi un zoom out zoom in scusate un zoom out ma tutto questo è possibile farlo anche con il mouse con il tastino come vedete adesso il mio overlay anzi con la rotellina del mouse quindi rotellina in su zoom in rotellina in giù zoom out è possibile farlo anche come vedete con il più o il meno da tastiera come volete io di solito uso comunque il mouse la rotellina dopodiché vi voglio far vedere alcune alcune cose intanto questo che ho appena fatto questo è un orbit un orbit vuol dire ruotare il piano di lavoro come avete visto qua ma non ho toccato il cubetto come ho fatto ho tenuto cliccato come vedete il mio overlay semplicemente tasto destro ogni tanto si spegne il overlay però lo vedete quando clicco per la prima volta una durata un po breve devo sistemarlo quindi è possibile fare l'overlay cliccando col tasto destro e a questo punto voglio fare vedere una cosa il tastino ultimo che passa alla vista ortogonale perché perché questa è una vista prospettica in realtà e questa è una vista ortogonale come può essere utile una vista ortogonale che sembra meno naturale quando ad esempio dobbiamo fare delle operazioni su dall'alto operazioni che abbiano bisogno proprio di precisione che ci siano su proiezioni ortogonali ad esempio muovere in pianta due oggetti per affiancarli o meno se avessimo una vista che è prospettica faremo fatica perché le soprattutto soggetti molto alti le facce superiori andrebbero a coprire completamente la base non saprei come gestire in maniera precisa lo spostamento quindi di solito questa è per avere una visualizzazione precisa questa per una visualizzazione un po più naturale a volte mi serve spostare il piano di lavoro e come faccio non c'è nessun tasto opposito basta cliccare la rotellina del mouse come vedete tutto questo è possibile farlo anche in metodi alternative ad esempio per spostarlo che si chiama pan questo spostamento ci potrebbe fare anche premendo shift o meglio maiuscola e tastino destro come vedete ma potrebbe essere anche fatto col contro shift e tasto sinistro come dicevamo che l'orbit è il tasto destro ma in realtà possiamo farlo anche nel caso vi si rompesse la rotellina del mouse potrebbe essere utile con il contro invece del tasto sinistro contemporaneamente tutte queste sono delle shortcut nel senso che sono delle scorciatoie da tastiera che trovate qui e che vi allego come fa il pdf all'interno alla base quindi in calce a questo video sono poche in realtà e queste comprendono proprio tutte quelle che riguardano il funzionamento del software non mi resta altro che salutarvi spero che avete capito video interfaccia vi consiglio di usarla un pochettino e ci vediamo invece a breve per le prossime puntate un po più riguardanti la progettazione e la modellazione vera e propria ciao ciao grazie a tutti